ragazzi allora oggi entriamo un attimo più nel vivo più nel dettaglio riguardo la questione processori riguardo le nuove uscite riguardo una serie di indecisioni una serie di difficoltà che molti di voi continuamente mi esprimono soprattutto nei commenti perché perché stiamo entrando in una fase dell'anno che è quella del computex perché da qui a poco probabilmente noi vedremo il lancio di tutta una serie di nuovi componenti hardware quindi sia schede video come abbiamo visto ok i primi leak sulle RX 5000 parlano di schede molto potenti e molti di voi effettivamente vanno in confusione vanno in confusione perché perché ci sono vecchie piattaforme ci sono nuove piattaforme c'è chi magari ha dei processori di qualche anno fa Ryzen 5000 ok c'è chi ha acquistato nell'ultimo periodo processori un po più potenti sia Intel che AMD e ha dei dubbi su quanto questi processori possano reggere quindi insomma c'è veramente un po di caos intorno alla faccenda processori pure perché ci sono varie scuole di pensiero che non vanno ad analizzare a semplificare poi effettivamente quella che è la faccenda perché c'è chi magari è convinto che anche con processori vecchi ma con gpu più aggiornate si possa giocare tranquillamente c'è chi invece sopravvaluta il problema legato al bottleneck e alle cpu quindi ci sono una serie di cose che si vanno ad incastrare tra di loro e che vanno quindi a creare dell'indecisione noi già abbiamo iniziato questo percorso lato processori quando abbiamo iniziato a vedere un po il bottleneck su alcune cpu e AMD abbiamo parlato di come in realtà anche processori più recenti anche processori non vecchissimi hanno effettivamente dei cali di performance abbiamo visto come ci sono delle schede video prendete per esempio la 40 90 che attualmente hanno difficoltà veramente ad andare al cento per cento ad esprimere il loro potenziale anche con processori più potenti abbiamo parlato anche del fatto che molto dipende dalle risoluzioni a cui giochiamo molto dipende da tanti fattori vorrei innanzitutto fare un breve ok riepilogo della situazione attuale ed è una situazione dove noi abbiamo semplicemente AMD come attuale piattaforma più conveniente sotto tutti i punti di vista per il gaming sia come rapporto prezzo qualità e prezzo prestazioni sia come diciamo futuribilità per eventuali upgrade alle successive generazioni abbiamo dei processori come 7800 x 3d che a 400 euro rappresentano il top e rappresentano processore che vi fa fare quanti più fps vi fa sfruttare quanto più riuscite le vostre schede video abbiamo anche allo stesso tempo il processore diciamo meno costoso un po di tutto la piattaforma m5 che è il 7600 che si trova stabilmente sotto le 200 euro e che effettivamente vi garantisce l'accesso a una piattaforma che vi durerà qualche anno e quindi sulla quale potrete effettivamente fare degli upgrade futuri per chi non vuole spendere tanti soldi lato diciamo computer di fascia bassa o computer low budget abbiamo a m4 con processori come il 5.600 che fuori da tanti anni sul mercato che ancora oggi rappresenta un'ottima scelta per fare delle build economiche abbiamo l'arrivo in queste settimane di nuove cpu per eventuali upgrade come il 5.700 x 3d e il 5.800 x 3d sempre su piattaforme diciamo a m4 quindi abbiamo sia un corrispettivo nuovo per dei pc più costosi e sui quali noi possiamo oggi fare affidamento per comprare un buon pc per comprare un buon processore poi eventualmente fare upgrade futuri abbiamo delle vecchie piattaforme per i pc più economici e abbiamo anche dei processori per fare degli upgrade già per chi viene da chipsette da piattaforme come b 350 b 450 eccetera eccetera lato intel abbiamo il refresh attualmente del degli intel diciamo raptor lake che rappresentano comunque degli ottimi processori ma abbiamo processori come 14.900 k processori come il 14.700 k che sono ottime cpu per giocare ma che effettivamente non sono in questo momento la miglior soluzione parliamoci chiaramente per chi vuole semplicemente giocare perché hanno un costo molto elevato e vanno su una piattaforma che tra poco verrà sostituita ma allo stesso tempo anche su intel abbiamo un sacco di processori ottimi sia per fare dei processi di computer di fascia bassa 12.400 f e magari anche successivi abbiamo tutta la serie 13 con il 13.500 con il 13.600 kf che è sceso di prezzo per fare eventuali upgrade quindi diciamo già in questo momento è una situazione molto delicata e molto confusionaria perché abbiamo piattaforme ddr4 piattaforme ddr5 processori vecchi processori nuovi piattaforme nuove come am5 piattaforme vecchie come lga 1700 e am4 ma una cosa è certa che nessuna di queste piattaforme in questo momento inclusa 7900 x 3d sono delle piattaforme che per il futuro di quest'anno quindi per le future schede video soprattutto le top di gamma per tutto quello che concerne probabilmente il gaming non sono dei processori che ci permettono di sfruttare al massimo schede video top di gamma poi che noi vogliamo parlare di schede video di fascia media schede video di fascia bassa che poi sono quelle che interessano di più di tutti questo è un altro paio di maniche ma il limite massimo delle nostre schede video che è rappresentato in questo momento alla 40 90 probabilmente verrà superato di gran lunga dalla prossima generazione di schede video e quindi ci sarà bisogno di un ulteriore assestamento verso l'alto di quelle che saranno le performance ovviamente delle cpu e l'aspetto delle cpu è un aspetto importante noi poi vedremo in un futuro video quando effettivamente conta una cpu nel gioco nel gaming e in che gaming cioè in che tipi tipologie di giochi ovviamente per quanto riguarda e concerne tutta la parte invece relativa alla multicore cioè la produttività va bene a chi non gioca ma chi utilizza dei software principalmente già oggi abbiamo tutti gli strumenti abbiamo dei processori sia lato amd sia lato intel capaci di farci lavorare in maniera serena e tranquilla sulla maggior parte di software che vengono utilizzati in ambito di produttività quindi da quel punto di vista io grossi problemi non ne vedo anche perché la maggior parte di software poi dipende ovviamente dai software diciamo vanno un po a scoppio ritardato rispetto a quelli che invece sono le capacità dei processori di solito ne abbiamo sempre dei processori molto potenti e i software le case produttrici di programmi che possono essere più disparati hanno diciamo vanno sempre un po in ritardo sull'adeguare il software poi al nuovo hardware quindi oggi fondamentalmente chi fa una macchina per montare video chi fa una macchina da calcolo in cad chi fanno macchine per lavorare ha già a disposizione dell'hardware sufficientemente potente da poter sfruttare al massimo i propri software che cosa succederà da questo momento in avanti succederà che amd sta iniziando già a cacciare una serie di nuovi processori e le ultime indiscrezioni parlano ovviamente a parte di una serie di processori che verranno lanciati in cina e che saranno l'8400 f e l'8700 f di cui a noi probabilmente ci frega quasi niente perché sono semplicemente dei refresh di zen 4 cioè dei processori zen 4 molto simili per esempio all'8600 g nel caso dell'8700 f ovvero un processore 8 core senza grafica integrata e un 8400 f che invece è molto più simile a un 7500 f ma anche in questo caso con delle specifiche a ribasso quindi sono delle cpu che fondamentalmente a noi non ci cambiano nulla allo stesso tempo lato amd alcuni processori della serie 7 mila stanno droppando di prezzo perché ci avviciniamo ad un periodo dell'anno dove verranno lanciati i nuovi amd di solito fa sempre così cioè inizia ad abbassare un po i prezzi dei propri processori per richiamare gente sulla propria piattaforma ovviamente questi cali di prezzo non riguardano specifiche diciamo in maniera specifica l'italia e che è sempre l'ultima ruota del carro per quanto riguarda aggiornamenti prezzi importanti sotto tutti gli aspetti sia come tempistiche che come proprio diciamo differenza in soldi quindi avremo un abbassamento minimo noi dei prezzi probabilmente e questi processori ovviamente sono dei processori noi abbiamo comprato fine e mo senza problemi sono i ryzen 7000 ma usciranno a breve gli 8000 perché perché già ci sono degli aggiornamenti bios sono stati diciamo spoilerati degli aggiornamenti bios dove già all'interno sono presenti una serie ok di adeguamenti per quanto riguarda i nuovi processori della serie 9000 che saranno i granitridge di amd ora questi processori non li vedremo probabilmente nella seconda metà dell'anno quindi del 2024 dopo il computex di taipei che ci sarà a giugno ma già si parla di processori in grado così out of the box appena comprati di avere un incremento prestazionale di circa il 15 16 18 per cento in ipc quindi in potenza bruta single core rispetto ai vecchi processori quindi noi vedremo arrivare probabilmente i nuovi processori zen 5 9000 con i modelli x poi vedremo i modelli lisci in un secondo momento magari un 9600 liscio che sarà poi quello effettivamente più acquistato perché nel momento in cui poi escono i lisci difficilmente non si va a comprare il processore x abbiamo visto che per esempio il 7700 7600 x è stato il primo ad uscire ma poi alla fine le persone una volta uscito il 7600 liscio vanno a comprare quello perché la differenza di prezzi è minima e anche le performance quindi avremo probabilmente sua m5 sempre questi nuovi processori che avranno un incremento prestazionale notevole oltre al fatto che successivamente usciranno anche i processori con la 3dv cache e anche in quel caso saranno dei processori molto potenti e avranno ovviamente una capacità di gestire le gpu superiore nei giochi rispetto ai processori senza 3dv cache non sappiamo probabilmente come verranno lanciati con che schede video integrate non sappiamo nulla sappiamo solo che dovrebbero essere dei processori con un nodo produttivo ulteriormente migliorato da amd ma senza stravolgere diciamo di gran lunga l'architettura precedente cioè quella di zen 4 nel caso di intel la faccenda è molto più complicata che indele sta facendo un macello e io sono sincero ve lo dico proprio come un fratello allora intel sta facendo un macello secondo me dal punto di vista proprio non solo della nomenclatura ma proprio dal punto di vista delle architetture perché in realtà in questi giorni è stato spoilerato il futuro socket lga 1851 che sarà il socket dove noi andremo a montare i nuovi processori di quindicesima generazione lato desktop saranno dei processori ovviamente nome in codice arrow lake che avranno probabilmente una nuova architettura con un nuovo processo produttivo almeno si spera ma questi socket sono stati spoilerati in occasione del diciamo del lancio probabilmente di nuovi processori che non sono degli arrow lake quindi desktop nuovi di quindicesima generazione ma sono bensì dei meteor lake che vengono dal reparto mobile che verranno poi trasformati in processori desktop per dei pc probabilmente edge amp dead quindi situazioni di pc per dei terminali che non sono dei pc desktop da gaming come li intendiamo noi inoltre su questa architettura cioè sulla nuova architettura a roll e che dovrebbero poi uscire anche i nuovi processori mobile lunar lake quindi non si capisce niente avevo fatto un uno schema diciamo per farvi capire la differenza innanzitutto tra i desktop e mobile ma soprattutto fra i socket desktop perché nel 2023 noi abbiamo visto il raptor lake il refresh con la quattordicesima generazione intel a 7 nanometri che sono dei processori desktop e poi sono venuti fuori gli intel 14 sempre l'aptor lake mobili ovvero tipo il 14900 hx 14700 hx quei processori la in più sono venuti fuori i meteor lake che sono i cosiddetti core ultra core ultra 7 core ultra 9 che in questo caso sono dei processori sul nodo produttivo intel 4 che è a 5 nanometri non è a 4 nanometri ora che succede nel 2024 succede che arriva la quindicesima generazione a rollic desktop che non si chiamerà probabilmente più 15.900 k 15.700 k ma prenderanno il nome di core ultra 200 core ultra qualche cosa della serie desktop e saranno forse a 20 armstrong ovvero a due nanometri quindi è quest'è ma è tutto ancora in dubbio non si sa niente cioè io ho i miei dubbi che cosa fa intel annuncia per quest'anno l'uscita di una serie di processori meteor lake quindi basati su architettura a 14 e la 14esima gen quindi saranno di processori con nodo intel 4 ma saranno montati su un socket desktop e già questo a me mi fa un po' tremare perché dico cavolo questi qua già stanno facendo i processori desktop ma con la vecchia generazione in più allo stesso tempo arriveranno gli arrow lake mobile che probabilmente avranno sempre nome core ultra 3 5 7 9 e che saranno sulla stessa architettura di desktop tra virgolette ma arriveranno anche i nuovi mobile cioè la nuova architettura mobile con il lunar lake quindi non si capisce niente intel in questo momento sta mischiando architetture sta mischiando nodi produttivi sta mischiando picore e core di vari tipi su nuove architetture con vecchie architetture non si capisce niente io faccio proprio così in quello che è nella mia indole a noi pc gamer non ce ne frega niente né dei quattordicesima gen mobile meteor lake raptor lake eccetera eccetera non ce ne frega niente nemmeno dei mobile e dei desktop di vecchia generazione per i processori edge per i pc edge a noi ci interessano i futuri processori arrow lake che si spera saranno a 20 armstrong ma non si sa perché io ci ho messo un punto interrogativo così grande come una casa perché in questo momento di intel noi veramente sappiamo nulla quindi andare adesso a fare un'ipotetica ok lista un ipotetico video su quale processore comprarvi nel 2024 che era l'intenzione in origine diciamo da fare in questo periodo dell'anno forse più il mese prossimo è una cosa veramente difficile per me perché capite bene che nel momento in cui noi arriveranno le nuove gpu sia invidia probabilmente a ottobre non si sa sia le nuove gpu amd che comunque sappiamo amd ci ha abituato negli anni a delle schede video molto potenti lato raster ok noi avremo il quadro generale un po della situazione perché perché fino ad allora noi non sappiamo minimamente ok come andranno fondamentalmente i nostri processori quelli che abbiamo oggi su quelle schede video e io vi dico pure una cosa i processori vanno comunque acquistati con un certo criterio nel senso che è vero che molto nei giochi lo fa la scheda video è vero che se noi puntiamo a delle risoluzioni un po più elevate come il 1440p o addirittura il 4k che sarà probabilmente la risoluzione di punta per le top di gamma della prossima generazione noi abbiamo che effettivamente sgraviamo un po il processore ma non tutto ok è semplicemente una questione di fps massimo io questo già ve l'ho detto nel video del bottleneck vi dissi guardate che nella maggior parte i casi il guadagno in fps totale è un discorso l'utilizzo della cpu e quindi a la bontà della cpu su un determinato gioco in un determinato diciamo ambito di gaming è un'altra cosa a volte processori che fondamentalmente non hanno grosse differenze in fps ok un processore come il 5600 un processore come il 7600 o più nuovi non hanno una grossa differenza lato fps però hanno delle differenze nel momento in cui voi andate a giocare a dei titoli cpu intensive che magari sfruttano maggiormente l'utilizzo della cpu per tutta una serie di cose perché è finita l'epoca dove i giochi girano solo ed esclusivamente su un core o su due core perché alla fine anche se non c'è diciamo un'ottima scalabilità dei giochi su tutti i core all'interno dei giochi stanno iniziando ad arrivare tutta una serie di features di nuove ok motori grafici di nuove implementazioni stanno iniziando ad arrivare tante cose ok lato anche diciamo sviluppo che vanno comunque ad influenzare l'utilizzo della cpu non solo come parte integrante del rendering cioè per quanto riguarda il rendering della gpu ma proprio in generale come diciamo processore che fa girare un software come processore che fa girare un gioco quindi non è solo una questione di fps ok quindi dobbiamo stare attenti anche in questo momento soprattutto alle fasce di prezzo che noi andiamo a puntare quindi è ovvio che non è che io vi sto dicendo che voi dovete andarvi a comprare il top di gamma sempre e comunque perché altrimenti non potete giocare questa è una stupidaggine nel senso che è tutto in relazione alla fasce di prezzo e alle schede video che voi volete acquistare ma quello che diciamo è mia intenzione dirvi è che anche sulle fasce minori anche quando noi andremo probabilmente a fare dei pc economici per giocare in 1080p noi inizieremo a trovarci di fronte a dei giochi ok che avranno bisogno di un buon processore per poter girare decentemente questo è il punto di tutta la questione ed è il punto sul quale io oggi ho dei diciamo mi blocco un attimo nel momento in cui penso alle future generazioni del dischi dei video e magari effettivamente anche alle future generazioni di giochi sul pc perché non è solo una questione di performance non è solo una questione di fps è proprio una questione di come oggi i titoli in generale e anche purtroppo la questione dell'ottimizzazione dei giochi sta cambiando un po volto e di questo poi ne parleremo ovviamente in un futuro video come vedremo tutti i titoli e soprattutto i processori quando verranno fuori io vi farò una piccola è un piccolo video con una piccola lista fondamentalmente i processori che voi oggi dovete probabilmente tenere in considerazione ma ci dovremmo concentrare più che altro sui limiti di quelli che sono gli attuali processori di oggi già oggi con le attuali schede video per poi andare a parlare delle future quando usciranno io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo video vi aggiornerò iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate un like lasciatemi un commento così mi fate anche capire voi che cosa ne pensate di questa situazione ok come sempre noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi